ecco i vostri nipotini stanchi del troppo lavoro guardate qui c'è Lulu che prende il sole guardate un po' è proprio il caso di dire un tappeto di minini stanchi che stanchezza che stanchezza come dura la vita Gregorio Rajas non lo sgridare ciao bacini ecco insomma non fino in fondo ma vabbè un tentativo c'è stato